Una giornata qualunque Tutto di corsa, dal lunedì al sabato non un attimo di tregua. Famiglia, lavoro, casa, amici, attività sportiva. Finalmente, un solo giorno alla settimana, la domenica, riprendo il ritmo umano di guardarmi allo specchio. Mi vedo segnata da qualche rughetta in più e mi dico, però, niente male, sei una donna interessante, Di cosa ti lamenti? Hai tutto quello che le donne desiderano da sempre, l'indipendenza e il coraggio di affrontare ogni giorno la noiosa e stressante quotidianità. E poi, lo vedi? Colui che ti è vicino è un estraneo a cui hai donato il tuo cuore, è tuo marito. Ho un marito? Strano, ho esclamato. Allora ho anche un marito, bene. Andiamo? E lui? Dove ti piacerebbe andare? Dove io possa finalmente fermarmi, guardarti negli occhi, prenderti per mano, emozionarmi e parlarti. Allora vuoi restare a casa? Oh no, ho bisogno di un luogo diverso dove io possa spaziare nell'infinità di me stessa. Il luogo ideale è questo attimo che sto vivendo con te. Gli occhi lucidi ed emozionati di mio marito mi fanno capire che questo attimo presente è il momento migliore per raccogliere. Gli occhi lucidi ed emozionati di mio marito mi fanno capire che questo attimo è il momento migliore per raccogliere. Gli occhi lucidi ed emozionati di mio marito mi fanno capire che questo attimo è il momento migliore per raccogliere.